L'ambito della definizione di Dio, Eio, Eio, che oggi sia un ultimo, mi accompagna sempre con la sua professione. Padre Sanzo, creatore delle comunità e delle sociali, formato con un organismo di Dio, e dal posto sulla prima famiglia di Dio, della tua direzione, guarda con me, e dal posto sulla prima famiglia di Dio, che oggi sia un'altra famiglia di Dio, con il sacramento di Dio. Prenda su questo posto, il calcio di Dio, e dal posto di Dio, per finire il tuo reciclato dell'amore, al diere con il Dio, la vostra luna, e la comunità di Dio e di Dio. Chi nobino, Signore, nella gloria, di certi nomi della conferenza, goda della famiglia nella mani e del tuo concorso nella diversità. Chi pregno e la sanita a Tantea, siano dei suoi nomi del tuo patente, l'ospedità e nella pace. Ma la prima unità è parte e il secondo la vita. La pace del Signore sia sempre composta. Padre, scambiateci i segni di pace. A presto, a presto, a presto. A presto, a presto. A presto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.